3, 2, 1, e... È stato bello scherzare, giocare con i bambini. Stasera nella sala consigliare del Comune di Montesacchio abbiamo l'onore di premiare la continuità dei ragazzi dell'Associazione dell'Infinito di Manuel. Perché durante l'estate hanno avuto il ruolo di aprire e chiudere, ma nel frattempo anche di far rispettare il buon senso delle regole. Attraverso la guida di un tutor i ragazzi potevano sperimentarsi nell'attività di vita quotidiana, nelle relazioni, nel comunicare soprattutto con le persone e far rispettare alcune piccole regole. Qual era il tuo ruolo all'interno del parco? Il mio ruolo nel parco è di stare a corto ai bambini, oppure quando la gente portava, non so, dei cani, delle biciclette e cose varie. Cerchiamo di fare in modo che non possano entrare dentro per il motivo semplice, perché poi l'erba si sporca, la terra sporcano e quindi mangiano pure cose varie, allora è meglio di no. Io sono il custodio del parco e pulisco i secchi quando si sporcano, perché poi quando le persone buttano la roba dentro i secchi io tengo a pulirli. Facciamo rispettare anche le regole quando entriamo nel parco, perché quando i bambini giocano a pallone diciamo ragazzi uscite fuori dal parco perché nel parco non si può giocare a pallone. La cosa più bella di questa esperienza? La cosa più bella di questa esperienza? La cosa più bella di questa esperienza è stare tutto l'anno insieme e fare sempre delle attività dentro del parco. E tu che fai all'interno del parco giochi? Io, allora, io porto, mi piacciono i bacciocchi e ogni tanto vengo la gente che pulire, che i gani non puoi entrare, tutte le cose non servono. A me, il mio ruolo, voglio stare anche in mezzo alla gente, quasi sì. Ti piace stare in mezzo alla gente? Sì, sì. Anche voglio, anche pensare, anche a sua azione, le figlie di Manuel, mi piace stare con loro. Praticamente lavoravo con Jacopo, poi praticamente quando qualcuno chiedeva informazioni, noi gli davamo informazioni. Poi, praticamente, quando erano in troppi sulle giostre, noi andavamo dai bambini che non potevano stare in troppi sulle giostre. Oggi, in occasione della giornata mondiale delle disabilità, il Comune di Montesarchio e l'amministrazione vuole dare un attestato di ringraziamento ai ragazzi speciali dell'Associazione dell'Infinito di Manuel e a quelli del San Pio Disabili Center per aver dato un enorme contributo nella gestione del parco giochi inclusivo. Il parco giochi inclusivo è stata un po' una scommessa per noi lo scorso anno, quando abbiamo pensato ad un parco giochi che comprendesse che accogliesse tutti i bambini, abbattendo tutte le barriere architettoniche. E poi abbiamo voluto fare anche un passo in avanti, conferendo la gestione di questo parco giochi proprio ai ragazzi speciali. Devo ringraziare il rappresentante, il presidente dell'Associazione dell'Infinito di Manuel, Michele Cuozzo e la vicepresidente Teresa Principe perché senza di loro non sarebbe stato possibile questo tipo di collaborazione perché fondamentalmente l'amministrazione, il Comune ha bisogno di innescare sinergie con le associazioni che si trovano sul territorio. E oggi vogliamo ringraziarli per tutto il lavoro che stanno operando all'interno del nostro parco giochi garantendo sicurezza, garantendo pulizia e controllo dello stesso. E per i ragazzi, i bifì! Sura! I bifì! Sura! I bifì! Sura!